Daniel, si ritiene spesso che questo sia un po' il tuo momento come in estate, il momento in cui spesso si definisce ci sia un ritaro, un richiamo della preparazione, ma in sostanza in queste settimane di attesa il termo cosa farà? Beh, inizialmente facciamo dei test atletici per capire e soprattutto fare una fotografia dei motori di ogni singolo giocatore. E da questi risultati cercheremo di impostare una preparazione adeguata per portare in miglior condizione possibile la squadra alla prima partita di ritorno. L'obiettivo ovviamente è avere benzina fino a fine stagione? Sì, sicuramente l'obiettivo principale è quello, infatti le prime settimane saranno lavori prettamente atletici, fisici, per poi andare a inserire la palla e cercare l'intensità in un secondo momento. Derivata anche dal numero di sedute, perché faremo circa 23 sedute in tre settimane più o meno, inseriremo anche tre amichevoli per adattare il lavoro che facciamo. Per questo saranno carichi notevoli questi per i ragazzi. Si parla tanto dei nuovi arrivi, arriveranno probabilmente e dovrai anche tu valutarli sotto il profilo fisico? Sì, certo, ma questo è un po' il problema anche di tutte le squadre, perché i giocatori che arrivano non sa mai come arrivano, non sa mai quanti minutaggi hanno oppure le condizioni fisiche. Però questo non è nessunissimo problema, perché noi faremo chi arriva, faremo dei test atletici, da lì cerchiamo di capire le proprie condizioni e da lì staremo a un programma personalizzato. Hai trovato qualcuno che ha esagerato un pandoro e panettone in queste festività? No, quello no, però è normale che qualcuno si lascia andare, ma è come giusto che sia, insomma dopo cinque mesi di attività continua a staccare mentalmente, a livello anche di alimentazione e così non fa male. Basta solamente mettersi in riga subito e lavorare come stiamo facendo. Hai detto tu l'alimentazione, quanto è importante in una preparazione fisica? No, è importantissimo, a parte che è un elemento che io ci tengo parecchio personalmente, però diciamo che fa la differenza questo.